Il progetto Dona in futuro nasce più di 11 anni fa per la valorizzazione del talento femminile. Parte proprio dalla volontà di premiare i talenti, i giovani talenti, e specie i momenti nei quali i talenti si affacciano al mondo del lavoro e possono incontrare delle difficoltà, degli smarrimenti o delle barriere. È un progetto che poi da iniziative sporadiche si è via via consolidato ed è diventato una bella realtà, un tantam che raduna molte donne, sia le giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che ottengono delle borse di studio e un'attività di sostegno e di tutoraggio, sia di madrine che si snodano nel ruolo di madrine e o di relatrici. Il fatto di appartenere ad un network così importante e poter fare squadra ci dà la consapevolezza del nostro valore.